La macchina ha completato la curva di sinistra, adesso entra nella retta delle tribune, con gradualità va in accelerazione, parte piano Regongioli, sbaglia anche il Foto VL. Si avvantaggia Unify all'attacco di 8 di piaggia. Numero 2, Uccide Greppi, squalificato. Unify di Uccide Greppi, 8 di piaggia in vantaggio, Unify all'esterno in corda Uneruso, Unify che ha ripiegato nella scia di 8 di piaggia precedendo Uneruso e Ulola dell'Est a largo Megaspin. Poi Oregon, Jolly, Oversides, Uncle Foto VL che si è ricongiunto. I 400 vanno via in 30, quelli che vanno ad affrontare la seconda curva con 8 al comando, Unify di rincalzo, poi Uneruso, seguito da Unkel Foto, in corda in quarta posizione Ulola dell'Est. Ancora Oregon, Oversides, siamo all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune. 8 di piaggia, coperto in 46, 600, adesso si avvia alla chiusura dei primi 800 metri. 800 che il leader completa in 1,1 appena abbondante. Alle sue spalle sempre Unify, Omega in coppia, poi ancora Oneruso e Uncle Foto. Quindi Olola e Oregon, Oversides a chiudere il gruppo, il chilometro in 1,17 e frazioni sulla retta opposta alle tribune. 8 al comando, la mossa in terza di Unkel Foto VL. A mezzo giro dal termine Unkel Foto VL scavalca Omega, scavalca anche 8 di piaggia e si lancia in fuga. Unkel Foto VL che si stacca al comando, poi 8 di piaggia. Omega all'esterno, Oregon in terza. E mancano 200 metri al termine, 14, 5 la curva finale, Unkel Foto VL entra nettamente al comando in retta di arrivo. Gli altri a lottare per le piazze, passerella per Unkel Foto VL, mamma mia quanto va forte sto cavallo. Oregon Giogli al secondo, Oversides al terzo, Olola dell'est al quarto posto. 1,15 e 2, perdendo, io direi non meno di 40 metri con quella rottura e voglio essere prudente. Quindi ha fatto veramente un numero, Stonkel Foto VL, che conquista nella circostanza la sua settima vittoria consecutiva. In coppia con Federico Esposito per il training di Eric Bondo e i colori della scuderia Wave.